Bentornato Gutier, bentornata! Iniziamo a parlare del sistema operativo. Sei giunto o sei giunta al momento più atteso, credo. Quello che aspettavi da tempo e che ti permette di cominciare ad interagire direttamente con la macchina nell'uso che verosimilmente replicherai più di una volta. Dopo aver compreso la necessità del partizionamento di un disco rigido e dopo aver capito le caratteristiche della formattazione, ora è giunto il momento di installare il sistema operativo. Non partiamo però subito dalla procedura di installazione, ma lascia di dare alcune informazioni come premessa sui sistemi operativi in generale. Cos'è un sistema operativo? In inglese, è definito con la sigla Operative System, un sistema operativo è un programma che, installato su un computer, ne permette l'uso, attraverso la gestione della parte hardware e, insieme ad altri software, specificamente installati dall'operatore, che saranno necessari poi allo stesso per raggiungere i suoi scopi. è, in fin dei conti, costituito da una serie di istruzioni, di comandi, di operazioni che un processore, una CPU, elabora al fine di ottemperare i suoi compiti. Lo stesso sistema operativo è, di fatto, la piattaforma sulla quale si posizioneranno, quindi installeranno, tutti gli altri programmi che, più o meno volontariamente, tu, utente, installerai sul tuo disco rigido. L'interazione tra i programmi ed il sistema operativo porta l'utente a raggiungere, quindi, i suoi scopi per mezzo dell'utilizzo della macchina computer. Durante il suo lavoro, programmi e sistema operativo gestiscono anche l'archiviazione e l'accesso ai file correlati e memorizzati sulla RAM momentaneamente o su altre periferiche, tipo disco rigido. L'utilizzo del sistema operativo avverrà grazie ad un'interfaccia che può essere di tipo testuale, o a rigo di comando, o di tipo grafica. L'interfaccia testuale prevede la scrittura dei comandi, quindi tramite delle stringhe, e quindi ne viene da sé che l'utente deve essere abbastanza conoscitore specifico dei comandi per eseguire i suoi scopi tramite il computer, perché dovrà scrivere fisicamente la linea di comando. Invece, un'interfaccia grafica è la classica interazione che normalmente eseguiamo tramite un desktop, ossia un sistema operativo comandato tramite mouse e tastiera. Se vuoi, la nota dolente, che può crearti alcune difficoltà, è comprendere che ogni software, ogni programma, che è progettato dai vari programmatori, dalle varie aziende, deve essere strettamente correlato al sistema operativo, in modo da essere compreso e supportato. In sintesi, un sistema operativo Windows deve aver installato e supporta programmi di Windows. Un sistema operativo del Macintosh deve aver installato e può supportare esclusivamente programmi per il Mac, e così via per gli altri sistemi operativi. Oggi, come se non bastasse a complicare le cose, c'è il fatto che un sistema operativo e anche i programmi da installare al suo interno, devono essere progettati in relazione alla struttura, all'architettura dell'hardware del processore. Che cosa significa? Lo spiego con un esempio. L'evoluzione tecnologica ha portato alla costruzione di processori al cui interno c'è una struttura, una forma, un'architettura fisica capace di lavorare con un certo numero di bit. Cosa sono i bit? Ormai già lo sai. Numericamente parlando, puoi trovare dei processori che hanno una struttura interna capace di pilotare, leggere, interpretare delle parole lunghe, 32 bit o 64 bit. Quali sono le differenze tra un 32 bit e un 64 bit? Innanzitutto l'etichetta, ossia il nome, la sigla con la quale è denominata l'una o l'altra struttura. Di norma, la struttura X86 si riferisce a processori che sono in grado di leggere e trattare parole lunghe 32 bit, mentre una struttura, un'architettura X64, è relativa ai 64 bit. Come ti ho detto, il numero di bit corrisponde alla lunghezza delle parole, quindi una sequenza di bit, più o meno lunga, 32 o 64, che corrisponde alla lunghezza dei registri interni al processore, in pratica dei circuiti interni. In altre parole, il processore è in grado di gestire, elaborare delle istruzioni, delle operazioni che hanno una lunghezza corrispondente a 32 bit o 64 bit. Questa struttura però genera dei paletti nell'utilizzo dei sistemi operativi, dei programmi e dei drivers. Ciò significa che i progettisti di sistemi operativi, programmi e drivers devono creare due tipi di versioni della stessa creatura per permetterne l'uso sulle rispettive strutture. Ad esempio, un sistema operativo, le cui istruzioni hanno una lunghezza di 64 bit, può essere installato solo su un computer, al cui interno è montato un processore che è in grado di leggere le istruzioni di tale lunghezza, ossia 64 bit. E quindi non può essere installato su un PC, al cui interno c'è un processore, la cui struttura legge solo 32 bit. è vero, però è il contrario. Un sistema operativo a 32 bit può essere installato sia su un computer, al cui interno c'è un processore a struttura x86, sia su un PC, al cui interno risiede una CPU capace di leggere fino a 64 bit. In sintesi, possiamo rappresentare in maniera rapida ciò che è appena definito. Un sistema operativo a 32 bit può essere installato su una CPU in grado di leggere parole lunghe a 32 bit, ma anche su una CPU, un processore, la cui struttura è in grado di leggere 64 bit. Ma un sistema operativo a 64 bit può essere installato solo ed esclusivamente all'interno di un computer gestito da un processore a 64 bit. Questo discorso è anche applicabile a programmi e drivers. Quindi, programmi oppure drivers nati per essere installati su una struttura a 64 bit non possono essere installati e funzionare su una architettura x86, ossia a 32 bit, mentre per un sistema operativo c'è una certezza di quanto appena esposto, ossia in relazione all'installazione di un sistema operativo a 32 bit anche su una struttura a 64 bit, per i programmi è quasi sempre valido, ossia un programma nato per una struttura a 32 bit lavora certamente su un processore a 32 bit e ragionevolmente quasi sempre lavora anche su un processore a 64 bit. Il quasi però è d'obbligo, ci potrebbero essere delle eccezioni. Come nota però di attenzione, devo informarti, nel caso in cui tu dovessi acquistare una periferica, ti devi assicurare che i driver della stessa siano specifici non solo per la versione del suo sistema operativo, ad esempio Windows o Linux, ma anche per la struttura del processore. Questo perché i driver di una periferica a 32 bit non possono funzionare su un sistema operativo a 64 bit. Nella scelta dell'una o l'altra struttura bisogna andarci un po' caudi. Questo perché si possono creare degli imprevisti problemi. Già ti ho evidenziato le potenziali incompatibilità tra le varie strutture del sistema operativo, ma voglio evidenziarti anche un altro problema sul quale potenzialmente è più facile scivolare. Te lo spiego con un esempio. Prendi una struttura X86 del processore. La lunghezza delle parole e delle istruzioni della sua struttura porta a fissare un numero di combinazione ben definito per quel che riguarda la lunghezza delle parole che, da una lezione dedicata, corrisponde a 2 alla 32esima bit, poco più di 4 miliardi di byte, ossia circa 4 gigabyte. Ciò comporta che questo tipo di struttura è in grado di comandare, indirizzare, mappare un equivalente numero di celle di memoria della RAM per memorizzare i dati durante il lavoro del PC che equivalgono proprio a circa 4 gigabyte. Ne viene da sé che se hai un computer che è costituito da una struttura a 32 bit ma hai installato al suo interno 6 gigabyte di memoria, ad esempio, il tuo sistema operativo non potrà utilizzare tutti e 6 gigabyte, ma solo fino a circa 4 gigabyte. Questo perché, banalmente, questa struttura è in grado di contare fino a 2 alla 32esima e, invece, 6 gigabyte sono ben più delle possibili combinazioni di circa 4 miliardi e la struttura stessa è in grado di comandare, indirizzare, mappare. Quindi, una struttura a 32 bit può comandare fino a circa 4 gigabyte di memoria. Questo problema, fortunatamente, è stato eliminato con l'avvento della struttura dei processori a 64 bit che, in pratica, hanno la capacità di comandare, indirizzare, mappare fino ad un massimo di 2 alla 64 byte corrispondente a 16 exabyte. Ok, mi dirai, ma come posso scegliere io la struttura? Beh, ti posso dire, rispondi a queste due domande. Chi sei o cosa sei oggi? Che ci devi fare? In pratica, sinteticamente, se sei un utente medio e non ti servono grandi prestazioni grafiche, quindi, utilizzerai il tuo computer per navigare, ascoltare o guardare contenuti multimediali, utilizzare le suite per l'ufficio, cose del genere, quindi, non hai la necessità di utilizzare un valore di RAM superiore ai 3-4 giga, vai, senza dubbio, su una struttura a 32 bit. Questo, ad onore del vero, fintanto che troveremo in commercio, questo tipo di struttura, che, verosimilmente, tenderà a scomparire. Di contro, se sei un regista o utilizzi il computer per giochi estremi con grafica tridimensionale o comunque ti necessitano notevoli prestazioni di calcolo, allora, ti sarà inevitabile l'utilizzo della struttura a 64 bit, in quanto ti servirà un bel po' di RAM e delle caratteristiche, delle performance abbastanza importanti del processore. Un'altra nota riguarda l'efficienza del sistema operativo. Un sistema operativo a 64 bit obbliga i produttori dei driver delle periferiche a certificarli. Ciò avviene con quella definita firma digitale che, appunto, sancisce l'ufficialità dei driver forniti dai costruttori, evitando anche, tra l'altro, insidiosi blocchi o crash del sistema stesso. Quindi, di fatto, un sistema a 64 bit fornisce una maggiore stabilità rispetto a un sistema operativo a 32 bit. Se la versione di uno o più driver della periferica che hai installato o che prevedi di installare sul tuo computer non sono state create per una struttura a 64 bit, di fatto, non puoi fare a meno di utilizzare un sistema a 32 bit in quanto i driver tra le due strutture sono incompatibili in maniera bidirezionale, ossia, un driver a 64 bit non può funzionare su un sistema operativo a 32 bit e viceversa. altra cosa che devi valutare per la scelta dell'una o l'altra struttura dei sistemi operativi e quindi del processore sono i requisiti minimi del sistema dell'hardware. In pratica sono le caratteristiche che devi possedere affinché tu possa installare un programma o un sistema operativo nella tua macchina. Sono definiti come parametri minimi perché al di sotto di questi valori ti potrebbe essere impossibile installare o nella migliore dell'ipotesi un programma potrebbe essere installabile ma lavorare male o risultare lento. I requisiti minimi sono evidenziabili dal progettista del programma o sulla scatola di acquisto del programma o del gioco o addirittura sul sito da cui scarichi il programma o il gioco stesso. Questi requisiti minimi riguardano principalmente la velocità e la struttura del processore la quantità della RAM necessaria lo spazio libero sul tuo disco rigido le caratteristiche della scheda grafica ed altre specifiche del caso. Bene nella prossima lezione inizierò a parlarti dei vari sistemi operativi. Ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima. grazie a tutti Grazie.